Sono le 11.30 Mio fratello e io siamo aggrappati alle sue gambe supplicandolo di portarci in spiaggia rovesciare il regime è perfetto e... tornare ai valori islamici Marrochino! 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 Non mi piace il fegato, mamma lo sa Tu mi stai parlando di un modo violento solo perché ti ho fatto una domanda legittima Sofìa! L'ultima volta che ti rivolgi a me con questo tono Shhh... Stai un coglione! Davvero? Come facciamo? Questa è una domanda da un milione di dollari Può darsi che questa battaglia non sia la mia Zitto! La tua! Sei musulmano, no? Non ci sono infinite scelte Non ci sono infinite scelte Grazie a tutti